Il 28 giugno il Consiglio regionale si è riunito in sessione straordinaria su richiesta dei gruppi di opposizione sul tema Fondi europei per la montagna e macro regione alpina, quale futuro e opportunità per il Piemonte. Dopo ampio dibattito sono stati approvati all'unanimità due documenti, un ordine del giorno e una mozione per definire gli obiettivi e le scelte su cui orientare la costituzione della macro regione alpina. Seduta del 26 giugno Il Consiglio regionale ha commemorato il carabiniere Emanuele Brai, morto in Afghanistan e poi approvato all'unanimità lo stanziamento proposto dal Comitato di Solidarietà di 100.000 euro per i terremotati dell'Emilia. Dopo la votazione per inviare in commissione redigente il provvedimento di riordino dell'ICT, l'Assemblea ha iniziato l'esame degli ordini del giorno collegati. Prima della seduta all'ufficio di Presidenza e l'assessore alle aree protette hanno incontrato una delegazione di dipendenti dei parchi per discutere sui salari e sul futuro dei lavoratori. Le commissioni per l'IPLA Il 25 giugno a Palazzo Lascaris seduta a congiunta delle commissioni bilancio Presidente Angelo Bursi, Ambiente Presidente Fabrizio Comba e Attività Produttive, Presidente Gianluca Vignale, per le audizioni con i rappresentanti sindacali e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Piante Legno e Ambiente IPLA. Sono emerse preoccupazioni per la tenuta occupazionale, oltre alla necessità di ricapitalizzazione da parte di regione, provincia e città di Torino. Ragazzi in Aula è un progetto di Open Government del Consiglio regionale del Piemonte che consente ai giovani delle scuole secondarie di conoscere processi decisionali che caratterizzano l'Assemblea legislativa. L'iniziativa è stata presentata il 25 giugno a New York allo United Nations Public Service Day 2012 UNSA. L'evento è stato trasmesso sul canale ONU in diretta streaming. Il suffragio femminile nel 1911 Quello dell'emancipazione femminile è storicamente un percorso lungo e faticoso. Di questo tema si è parlato il 21 giugno a Palazzo Lascaris alla presentazione del libro Torino 1911, il primo congresso pro suffragio femminile a 50 anni dall'unità. L'incontro è stato organizzato dalla Consulta delle Lette in collaborazione con l'Archivio delle Donne in Piemonte ARDP, la Fondazione Nocentini e l'Istituto Salvemini. Grazie a tutti!